Molti si chiedono se bisogna mangiare solo frutta di stagione oppure cercare in giro il mango che non è della nostra terra o l'uva a dicembre, a Natale. No, non bisogna essere manichei, non è tutto bene, non è tutto male. La globalizzazione ci dà un'opportunità straordinaria, quella di provare ciò che non avevamo mai provato. Pensate che patrimonio di cose ci sono in giro che non conoscevamo, il banano di montagna americano, il lici asiatico e via discorrendo, il nashi che è una pera giapponese e cinese. Certo che bisogna provare, perché no? Ma basta non dimenticare da dove veniamo e che significato ha la biodiversità della frutta antica.